Buongiorno, buona mattina, siamo tornati a Bologna e oggi tra tanta frutta e verdura nel mercato delle erbe, questo mercato storico, andiamo anche con un pochino di carne, ma carne tipica. Guardate cosa abbiamo scoperto, siamo nella macelleria Bue, Vitello, Romagnolo, sempre al mercato delle erbe, dove, fra le tante curiosità, i prezzi sono prima in lire e poi in euro. Spalla di vitellone, 15.000 lire, ovvero in euro 7,75 euro, così come la polpa di vitello, le fiorentine toscane e il controfiletto a tranci. Signor Pietro, buongiorno, lei è il boss? Il boss no. Dice che comandano loro. È una ditta familiare nata in questo mercato del 1960, che è là. Quindi con una grande storia. Io sono stato il primo a iniziare, poi tutta la famiglia ha seguito. Eh, cosa sta facendo adesso? Sto preparando delle bistecche, dello stracotto, delle fettine. Allora, noi volevamo, come dire, strapparle in qualche modo un'offerta del giorno per chi ci segue. Che cosa ci offre veramente di tipico? Io pensavo anche al ragù. Noi particolarmente siamo tutti in offerta, perché abbiamo dei prezzi inferiori del 30% da tutta Bologna. È tutto in lire? Tutto in lire, però maggiormente oggi abbiamo il ragù a 2,58, molto buono. A 2,58 perché 2,58? Perché? Perché questo del 2000 era 5.000 lire. Noi abbiamo preso il 5.000, l'abbiamo dimezzato in euro ed è risultato 2,58. Grazie Pietro, buon lavoro. Grazie. Noi ci spostiamo, venite a vedere perché qui si fanno le polpette, si fanno anche le zucchine ripiene. Buongiorno, come vi chiamate? Cristina. Cristina e? Selene. E Selene. Noi vi abbiamo visto al lavoro ed eravamo veramente colpiti, non solo dalla vostra maestria, ma soprattutto dalla bontà, perché anche con gli occhi sembrano buonissime. Questo è il prodotto finito? Il prodotto finito, sì, le zucchine bolognesi. Ah, che buone. Come le fate? Mi sembra molto semplice. Noi consigliamo al sugo. Prima un po' soffrite in padella con l'olio e poi preparate con un buon sugo, fatto prima insaporire con la cipolla, messe dentro una quarantina di minuti, vengono belle saporite e servite calde e si gustano. E così da Bologna consigliamo un piatto tipico, non è l'unico. Selene, io ho visto prima, vuole venire qui, se può, la ruba un attimino al lavoro, che ci ha fatto le polpette, queste? Sì, sempre col ripieno che odoperiamo per i zucchetti. Ci dica la ricetta, ecco, ripiena la bolognese, com'è? Quello vero, ve lo diciamo proprio da qui. Sì, vitello, maiale, mortadella, uova, forma, sale, un po' di noce moscata, prosciutto. Ed è pronto. L'olio bolognese, che sarebbe poi ripieno anche dei tortellini, volendo. E così è pronto. E sono pronte, poi si fanno e si mangiano. Allora, grazie. Vedete ancora i prezzi contro filetto a tranci, 17.800 lire, è rimasto così tale, tradotto però in euro, 9,20 euro. E così praticamente fate sempre, per ogni prezzo. Tutti i giorni. Ah, sì, per i prezzi, sì. Sì, certo. Sì. E la gente questo l'apprezza. Certo, rimangono anche stupiti che ci sia ancora qualcuno che c'ha le lire. E che c'ha i prezzi di una volta. Esatto. Grazie allora, buon lavoro. Grazie, buongiorno. Buona giornata allora, anche al signor Pietro, grazie davvero. Torneremo più tardi con tante sorprese ancora da Bologna, se avete piacere subito dopo la messa. Lucia, a più tardi, io vi faccio insegnare qualche altra ricetta. Grazie.